e con il prospedito e con Gesù se ne andava con la Galilea, infatti non volevano quello che aveva bisogno di avere, perché il Gesù non ha proprio vissuto. Si avvicinava la canta della Fissata di Giudei, quella dell'Empardo, quando loro sovrapposti e le salivano un colore, e salvia anche lui, non è una famiglia, ma quasi una stessa. Alcuni arrivanti di Giudei e L'Empardo dicevano che non è un giudice che non cercavano la Piscita, è quello che ha dato, è quello che diventano loro, e cambio il corso, e vengono, e cambio il corso, e che non sovrapposti, non sovrapposti, non sovrapposti, ma non sovrapposti, ma non sovrapposti, Grazie a tutti. Grazie a tutti.